Ciao, sono Patrizio Oliva, volevo fare i miei complimenti agli organizzatori di Sport City perché divulgano lo sport in tutta Italia, ma lo sport non solo visto come un momento agonistico ma soprattutto come portatore di valori, come supporto al mondo del sociale e soprattutto al benessere della nostra vita. Bravi, bravi, bravi. Ciao a tutti da Patrizio Oliva.